buon pomeriggio e benvenuti a tutte e tutti a questa terza puntata di a tu per te un podcast di associazione volumwright con lo sportello in forma disabile a tu per te è un podcast che in maniera cadenzata cerca di raccontare la disabilità insieme ad altri temi trasversali in maniera un po innovativa e in maniera un po leggera anche se in realtà il tema di oggi che la giornata internazionale per eliminazione contro la violenza sulle donne non è un tema leggerissimo però cerchiamo di affrontarla nella maniera più interessante e importante possibile qua con noi oggi c'è marta petrini avvocata benvenuta grazie buongiorno a tutti ed è qua perché in realtà è avvocata anche interna insomma all'equipe multidisciplinare del progetto fiordiloto quindi offre insomma il suo il suo lavoro e le consulenze legali per le vittime di violenza che arrivano al nostro sportello quindi 25 novembre giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e insomma se ne parla nei notiziari sui social ogni giornata in realtà internazionale no diventa poi famosa durante quella giornata lì però non sempre ci si chiede ma come mai proprio oggi per esempio come mai proprio oggi 25 novembre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne allora la giornata viene istituita formalmente dall'assemblea generale delle nazioni unite nel 1999 con una risoluzione con la quale si invitano i governi le organizzazioni internazionali le ong a organizzare iniziative eventi proprio per sensibilizzare la popolazione su questo problema perché il 25 novembre si tratta di una ricorrenza ovviamente una tristissima ricorrenza perché viene scelta questa data a commemorare l'omicidio di tre donne tre attiviste politiche che furono assassinate nel 1960 in repubblica dominicana su ordine diciamo del dittatore viene simulato un incidente perché queste tre donne erano appunto tre attiviste che vengono stuprate massacrate uccise e poi lanciate con la loro auto i loro corpi vengono fatti cadere da un dirupo facendo appunto simulare un incidente ma era chiaro a tutti che fosse stato un assassino la data viene scelta in realtà molto prima del 99 perché è nell 81 al primo incontro femminista latinoamericano e caraibico che si svolge a bogotà in colombia che viene scelta proprio questa data per ricordare le vittime di di violenza e proprio giornata internazionale si dice per l'eliminazione della violenza sulle donne e poi sono le nazioni unite a confermare appunto questa data e formalmente istituire la giornata è interessante che dal 25 novembre iniziano i 16 giorni per l'attivismo contro la violenza di genere quindi non è una sola giornata ma iniziano questi 16 giorni che si concludono il 10 di dicembre che è la giornata dei diritti umani questo proprio a voler significare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e quindi è molto molto interessante sì 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 effettivamente informandomi per per il podcast o comunque insomma negli anni per il 25 novembre anche banalmente su wikipedia c'è scritto no dei 16 giorni cioè inizia il 25 novembre così 16 giorni e finiscono il 10 dicembre che appunto è la giornata per per i diritti umani quindi la violenza contro le donne la violenza di genere effettivamente una va in contrasto con i diritti umani sostanzialmente lo dice chiaramente l'ONU con la sua risoluzione è appunto una scelta simbolica di fare incominciare i 16 giorni il 25 di novembre e farli terminare nella giornata mondiale per i diritti umani ok questo è effettivamente un'informazione molto interessante che magari insomma anche oggi in mezzo alle notizie in mezzo agli approfondimenti non si parla tantissimo del 25 novembre per fortuna sono tantissime le iniziative però sì un po di storia sì e io vabbè chiaramente la insomma il mio punto di vista il mio il mio sguardo è da psicologa da psicologa interna al fior di loto e da donna anche no quindi chiaramente la violenza sulle donne risulta per me un un fenomeno come dire un un oggetto sociale tra virgolette per cui io da psicologa in maniera professionale mi avvicino appunto in una in una dimensione professionale quindi è qualcosa che che crea della sofferenza no che crea comunque del del disagio se non se si va insomma se si segue l'escalation di violenza si va anche in qualche modo a in situazioni ben più gravi chiaramente però essendo un fenomeno sociale è anche qualcosa che dal punto di vista legislativo dal punto di vista sociale allargato deve essere in qualche modo preso in considerazione in italia in italia ci sono stati diversi cambiamenti dal punto di vista legislativo relativamente alla violenza domestica alla violenza di genere ci puoi fare una una panoramica insomma di quello che è cambiato a livello legislativo negli anni allora negli anni gli interventi normativi a riguardo sono stati molteplici soprattutto negli ultimi anni dove l'interesse fortunatamente per questo fenomeno anche a livello legislativo è molto aumentato ehm teniamo in considerazione che il nostro codice penale è ancora il codice del 1930 eh quindi è datato è datatissimo e eh è stato scritto e promulgato ehm in una situazione politica molto diversa da quella attuale ehm e quindi un codice ancora molto incentrato sulla eh figura dello stato il codice divide i i reati per argomenti eh parte da quelli più importanti tra virgolette che sono contro la personalità dello stato poi la pubblica amministrazione l'amministrazione della giustizia e via dicendo e sono gli ultimi i reati quelli contro la persona ed è un codice molto eh incentrato appunto sullo stato sulle formazioni sociali tant'è che il reato che più da vicino riguarda la violenza sulle donne che è il reato di maltrattamenti in famiglia eh all'articolo 572 del codice non è inserito tra i reati contro la persona nonostante la vittima sia ovviamente una persona ma tra i reati contro la famiglia perché quello che il legislatore del 1930 andava a voler sanzionare era appunto la lesione alla istituzione famiglia ehm così come i reati di eh violenza sessuale i reati contro la libertà sessuale eh sono stati inseriti tra i reati contro la persona nel 1996 quindi praticamente ieri erano prima tra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume o insomma una dicitura simile era quindi appunto un codice molto poco attento alla persona eh il punto di svolta poi nella normativa sulla violenza domestica la violenza di genere è la convenzione di Istanbul che è del 2011 quindi recentissima che viene poi ratificata in Italia nel 2013 e a essa seguono una serie di modifiche normative che vanno ad adeguare il nostro sistema di eh tutela contro la violenza domestica la violenza di genere a quelle che sono eh le raccomandazioni diciamo della convenzione di di Istanbul ehm gli ultimi interventi più recenti sono quindi la legge quella che si chiama mi sembra contro il femminicidio che è proprio successiva alla convenzione di Istanbul e un po' più recente il famosissimo codice rosso del del 2019. Ok eh quello mh per curiosità il è rimasto uguale in questi anni eh il codice rosso. Allora sì il codice rosso in realtà ehm è questa legge del 2019 eh che nasce secondo me un po' dalla narrazione che viene fatta nei media della violenza di genere come un fenomeno in cui le donne denunciano 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 e non sono mai ascoltate. Una narrazione che per fortuna è vera fino a un certo punto nel senso che il sistema giustizia già aveva degli strumenti efficaci di tutela delle donne vittime di violenza che denunciano per esempio le misure cautelari, l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento che sono tutte ovviamente state inserite non nel 1930 quando è stato fatto il codice di procedura ma negli anni successivi. Il codice rosso ehm inserisce una sorta di corsia preferenziale all'interno delle indagini per i reati di violenza domestica. Quindi era quella famosa norma per cui la donna che denuncia deve essere sentita entro poche ore dal pubblico ministero e quindi fa sì che ehm siano meno i procedimenti che si fermano alla fase delle indagini eh per evitare quel fenomeno di cui tanto si parlava e si propagandava anche in politica della donna che denuncia che non viene ascoltata. In realtà nel nostro lavoro non è che sia cambiato tantissimo. Ok. Pre codice rosso e post codice rosso. Ok. Quindi certe c'è certe dinamiche professionali poi sono le stesse. Sì. Nel senso nel ok. Ok. C'è sicuramente una eh connessione no? Tra i cambiamenti legislativi i cambiamenti poi sociali e culturali nel senso che alla fine eh l'impianto legislativo dovrebbe sempre dovrebbe già uso questo questo condizionale qua dovrebbe sempre un po' seguire i ehm i cambiamenti socioculturali. ma poi succede anche l'inverso nel senso che i cambiamenti socioculturali che avvengono poi effettivamente influenzano tanto ehm i cambiamenti dal punto di vista legislativo. Secondo te qual è eh come dire il la direzione più forte? Cioè sono più i cambiamenti legislativi che influenzano la società o viceversa? È un po' chi è nato prima l'uovo o la gallina? È un po' così è quasi impossibile rispondere uguale come tra l'uovo e la gallina. Diciamo che ehm il nostro legislatore non è che sia il più veloce di tutti. Eh spesso arriva eh ma questo al di là della violenza di genere su tanti temi arriva dove la giurisprudenza è già arrivata. Arriva dove il cambiamento ehm culturale un po' è già arrivato. È chiaro che avviene anche l'inverso. Quindi come come dicevi tu la norma influenza eh le ovviamente le reazioni dei dei cittadini. Volendo tornare all'esempio del codice rosso eh il fatto anche che sia stata molto pubblicizzata questa legge come da adesso in poi le vittime vengono ascoltate subito ehm io ho la speranza che eh induca a denunciare anche la donna che aveva paura di essere inascoltata che quindi eh prima diceva ma tanto io denuncio nessuno fa niente e rischio solo di peggiorare la mia situazione perché lui scopre che l'ho denunciato e mi massacra di più e invece che sia un po' passato il messaggio le vittime vengono ascoltate. Quindi un po' e un po' si influenza una vicenda. Relativamente al alla alla violenza sul sulle donne eh proprio così ma un po' un po' di pancia comunque da riflessioni insomma che che magari ti arrivano dalla tua esperienza di questi ultimi anni. Effettivamente i cambiamenti a livello di leggi che ci sono stati cosa cosa hanno apportato proprio in termini di cambiamenti scusami di a livello sociale. Mi spiego meglio. Spesso si sente dire che si esagerano un po' no i numeri sulla violenza di genere i numeri dei femminicidi ma no ma in realtà ma cioè non sono sempre stati così tanti. Si diceva no quando è uscita è uscita la legge del 2012 sul femminicidio qualcuno comunque diceva ehm non è un fenomeno da eh analizzare così tanto ed addirittura farci farci una legge apposita no? Il fatto di avere una copertura legislativa secondo te comporta effettivamente che si dà troppa attenzione un fenomeno o invece finalmente c'è una come dire una protezione di certe situazioni? Allora troppa attenzione sicuramente no anzi eh è un fenomeno che merita tutta l'attenzione che merita e anche di più ed è un fenomeno in cui qualsiasi statistica è eh sottostimata. Sì. Quindi il fenomeno è più di quello che si vede e se si vede se abbiamo la percezione che si veda tanto che i femminicidi siano tanti che le violenze domestiche siano tante sappiamo che c'è di più di quello che vediamo quindi ehm è un fenomeno tra l'altro molto trasversale che non riguarda solo una certa parte della popolazione che non riguarda solo eh una certa ehm età della popolazione una certa classe sociale se vogliamo usare questa questa terminologia è un fenomeno molto trasversale e appunto eh sottostimato nel senso che la violenza sommersa e non denunciata è eh sicuramente ancora tantissima e quindi è un fenomeno che merita eh le giornate internazionali e merita di avere eh sempre più risalto anche mediatico. Sì 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 assolutamente io ho fatto un po' la la domanda provocatoria perché in effetti ehm c'è c'è sempre no un filino di di polemica dietro anche giornate come quella come quella di oggi o anche dietro la la giornata dell'8 marzo è banalmente eh quindi c'è ci sono sempre queste polemiche un po' un po' volanti come se realtà eh insomma le leggi oppure le associazioni no ehm tutti tutti gli psicologi o comunque chiunque si occupi di violenza di genere sia eh si è esagerato no gira un po' questa 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 opinione qua anche relativamente a certe posizioni femministe che non si può effettivamente non non attivare secondo me in certi in certi contesti in certi in certi fenomeni e come dicevi tu mi soffermo un po' su questo c'è una grande zona grigia di eh situazioni che non vengono denunciate quindi no sono quei c'è un determinato numero ci sono determinate statistiche ma in realtà forse c'è molto molto di più e sicuramente nei in questa zona grigia di situazioni che effettivamente non vengono alla luce ehm rientrano tantissime situazioni di violenza verso donne con disabilità eh che abbiamo visto comunque negli anni col fior di lotto effettivamente arrivano alla denuncia in maniera ehm molto ostacolata per un motivo o per l'altro quindi tante donne con disabilità in effetti vivono situazioni di violenza di tanti tipi e sono molto più lontani rispetto alle donne non disabili eh rispetto alla possibilità di di una denuncia di essere ascoltate di essere accolte o anche solo in una situazione di emergenza di essere allontanate dal luogo effettivamente dove dove vivono la situazione di di violenza ehm tu in questi anni appunto hai collaborato hai collaborato un po' col col fior di lotto il tuo ruolo cioè cosa come come svolge insomma le 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 consulenze legali e quali sono le situazioni che hai che hai visto più spesso in questi anni allora sì come dicevi tu eh è un fenomeno ancora più sommerso ehm questo è dovuto a moltissimi motivi ma anche al fatto che mentre il fenomeno violenza eh di genere violenza violenza domestica violenza sulle donne in generale ha avuto enorme attenzione da parte del legislatore non è mai abbastanza perché poi spesso gli interventi sono vado a modificare il codice penale a inasprire la pena ma poi non investo dei soldi in quelli che sono i servizi ma questo qua apriamo un mondo è lì vabbè sì certo però appunto un po' di attenzione che sia mediatica che eh politica che legislativa il fenomeno l'ha avuta ehm la questione violenza sulle persone con disabilità invece è ehm assolutamente ehm ignorata dal nostro legislatore ehm non so non vorrei aprire il capitolo di DL Zan però ehm è un capitolo che ci fa abbastanza vedere quanto eh la violenza la discriminazione sulle persone con disabilità sia tenuta in considerazione zero già solo per il fatto che riguarda DL Zan si parla di violenza sulle persone omosessuali c'è anche quello ma c'è tutta la parte disabili che è stata cancellata ignorata ehm a maggior ragione lo sono eh interventi appunto più ehm volti a inserire dei servizi specifici eh all'interno del sistema giustizia e all'interno del sistema di protezione delle vittime di reati per le persone disabili quindi se la donna vittima di violenza in questo momento più facilmente può trovare eh servizi antiviolenza dove trova sostegno psicologico magari un accompagnamento al lavoro all'indipendenza economica ehm case rifugio dove andare in situazioni di emergenza con i figli per la persona con disabilità questo è molto più difficile eh e questo ovviamente contribuisce enormemente al mh restare sommerso di questo di questo fenomeno ehm all'interno del del fior di loto il mio ruolo appunto è quello di fare consulenze legali e quindi di informare la persona disabile su quelli che sono i suoi diritti ehm all'interno di un procedimento penale o eventualmente di un procedimento civile se eh dalla denuncia della persona maltrattante originano dei profili civilistici quali una separazione una cessazione di convivenza eccetera ok io adesso saluterei marta perché in realtà questo podcast come vi dicevo prima ha due parti saluterei marta petrini grazie mille grazie a te arrivederci a tutti è stato un piacere grazie e inviterei i due colleghi psicologi mattia ghigo e laura stoppa per la seconda parte di questo podcast benvenuti grazie alessia per il tuo invito siamo molto sono molto felice di essere qui grazie alessia sì siamo proprio felici di poter parlare di cose a noi care grazie a voi eh laura è psicologa psicoterapeuta mattia psicologo entrambi lavorano al progetto fior di loto dell'associazione verba che si occupa proprio di violenza ehm di violenza verso le donne anche gli uomini poi spiegheremo perché eh con disabilità che appunto vivono situazioni sono vittime di violenza ma anche su questo poi approfondiremo facciamo faremo una bella una bella riflessione io vi chiederei con marta abbiamo fatto un po' una panoramica sulle parti più legali diciamo no e anche un po' culturali della della violenza io a voi invece chiederei una definizione in qualche modo della violenza cioè cos'è la violenza dal punto di vista psicologico o in generale ma mi verrebbe da partire con una bella definizione dell'oms per dare un punto un po' più specifico eh sul fenomeno eh l'organizzazione mondiale della sindaca appunto la definisce come l'utilizzo intenzionale di forza fisica eh o del proprio potere contro se stessi o un'altra persona o contro un gruppo o una comunità ehm tale questa questo utilizzo intenzionale da forza da determinare sia in termini di probabilità che in termini di effettivo esito lesioni fisiche danni psicologici ed esistenziali problemi nello sviluppo nel caso dei bambini o addirittura la morte insomma quindi danni permanenti o la morte sì a noi piace partire da una definizione generale perché una degli grandi quesiti quando iniziamo a parlare del nostro lavoro è e questo lo dico da anni e me perdonate la ripetizione ma perché anche le persone con disabilità sono vittime di violenza anche le donne subiscono violenza ebbene sì quello che noi raccontiamo quello che noi diciamo negli nostri incontri è che la violenza è violenza e anche quando viene declinata sulla disabilità il fenomeno è questo e quindi abbiamo tutte queste specificità che riportiamo con una definizione generale ma non dobbiamo dimenticare poi che però ci sono dentro questo nucleo delle peculiarità no? c'è uno squilibrio di potere uguale come sempre accade appunto in una situazione di violenza ma forse possiamo aggiungere che lo squilibrio di potere non è tanto una novità nella violenza ma l'utilizzo che se ne fa di questo squilibrio di potere è abbastanza comprensibile il fatto che se una persona ha una disabilità vuol dire che ha delle limitazioni e anche questo mi piacerebbe poi ridefinirlo perché noi non incontriamo persone con limitazioni e noi incontriamo persone con aspetti da potenziare no? esattamente sì e poi tipo il tipo di lavoro che si fa sostanzialmente in un percorso di accompagnamento psicologico quello di identificare le risorse e potenziarle piuttosto che andare a vedere che cosa non funziona e sentirsi dispiaciuti per quello che non funziona che sarebbe solo una parte del lavoro e forse questo non è anche qualcosa di nuovo qualcosa di non visto tendenzialmente nella vita di tutti i giorni presi dalla fretta presi da quelli che sono gli stereotipi che guidano il nostro pensiero il nostro gira la persona con disabilità ha delle limitazioni ok accettazione del fatto che tutti noi abbiamo delle difficoltà abbiamo dei punti di forza quando è che avviene la violenza su tutto ciò quando io faccio forza sulla tua disabilità una delle cose terribili che abbiamo raccolto è anche la doppia vittimizzazione no? un'altra volta quando ci confrontavamo con te anche perché poi diciamolo tu sei una nostra collega quindi ci tenevo a dirlo assolutamente in uno dei nostri confronti spesso avviene che ci diciamo ok ma facciamo passare anche il messaggio che ciò che viene detto dopo ciò che accompagna il racconto di una violenza e anche può rischiare di essere una vittimizzazione secondaria oltre al fatto che queste queste multiple vittimizzazioni alle volte si accompagnano anche a un'invisibilizzazione di queste dinamiche perché appunto per la maggior parte del pubblico generale per l'uomo della strada diventa anche difficile credere che una persona con disabilità possa essere maltrattata come molto spesso capita da persone che le sono vicine ecco quindi c'è un po questa aura molto spesso di angelificazione e infantilizzazione o comunque appunto il non accostamento tra la violenza e anche la sessualità poi questo è tutto un altro tipo di discorso della persona la persona disabile non c'è assolutamente questo affiancamento nelle concezioni delle persone comuni e quindi nello specifico quindi il servizio antiviolenza disabili quindi quello interno al progetto fior di lotto com'è che funziona cioè proprio nel pratico voglio proprio una ma allora sicuramente uno dei punti di forza del nostro servizio è una profonda interdisciplinarietà delle figure coinvolte nel fornire aiuto e nel fornire sostegno alla persona che ha incontrato la violenza non a caso dico incontrato la violenza magari poi approfondiamo perché la violenza è qualcosa che accade tendenzialmente non è qualcosa insomma non è qualcosa che fa parte dell'identità di un qualcuno nel percorso di vita c'è un momento in cui si può incontrare la violenza ma non voglio dilungarmi troppo appunto c'è questa interdisciplinarietà che è uno degli elementi fondanti del nostro servizio quindi abbiamo diverse figure professionali insomma assistenti sociali, educatori, avvocati ne parlavate poco fa esattamente magari possiamo dire che il primo incontro, scusa se ti interrompo, avviene con un'educatrice quindi una persona accede al nostro servizio in maniera autonoma attraverso i social ricordavamo attraverso i social, attraverso che sia instagram, che sia facebook, che sia il sito noi siamo raggiungibili in qualsiasi piattaforma proprio per avere la possibilità dare la possibilità a tutte le persone che siano anche persone sorde c'è che di utilizzare uno strumento a loro utile, consono, appropriato tant'è che questi educatori che fanno accoglienza comunque hanno anche la possibilità alcuni di loro sono anche segnanti in LIS quindi hanno la possibilità di accogliere persone con problematiche di udito e la scelta di fare come primo incontro un incontro tra persone quindi tra operatore, che è un educatore e la persona e anche perché noi pensiamo che ogni situazione in storia abbia poi dei bisogni e delle peculiarità differenti quindi l'obiettivo primo è capire qual è la tua esigenza di solito faccio l'esempio del sartono si arriva, si prendono le misure, si disegna il vestito che sta meglio addosso a te alcune volte interveniamo noi, molto spesso, perché ahimè si parla comunque di esperienze negative che lasciano un segno attraverso cui passare, per riprendere il tuo discorso che non vuole essere identificativo della storia della persona quindi questo ci teniamo ecco perché poi facevamo quei riferimenti al nome in cui vengono chiamate le persone a quello che poi si può fare ma oltre a noi, appunto c'è Marta che ci ha preceduto in questo incontro ma poi ci sono tantissime realtà noi lavoriamo tanto col terzo settore molto in rete sì, non c'è sicuramente non viene fornita una soluzione standard mettiamola così esatto quindi ogni situazione è obiettivamente diversa ma a proposito dei termini che si usano nella giornata di oggi comunque pubblicità, immagini, post sui social eccetera ritorna un po' questa narrazione qua ritorna un po' la parola vittima di violenza quindi le donne sono vittime e ritorna un po' questa narrazione per cui c'è un colpevole cioè c'è una parte criminale, violenta e la vittima e non so se siete d'accordo con me è un tipo di narrazione che comunque io la vedo molto monodimensionale e soprattutto è proprio il termine vittima che in qualche modo mi apre un'immagine di passatemi questo termine di sottomissione quindi io vivo qualcosa che mi sopprime in qualche modo eppure per esempio nei paesi anglofoni non si usa più o comunque si usa sempre meno il termine vittima quindi victim si preferisce molto spesso il termine survivor voi cosa ne pensate? Sai che forse è molto coerente con anche l'idea di questa nostra chiacchierata nel senso che quando ci siamo incontrati noi agli altri colleghi abbiamo pensato ma perché non trasmettere un messaggio diverso questa volta? perché non cercare di puntare su un aspetto differente andare anche un po' a integrare quello che diciamo che sentite tutti i giorni rispetto alle vittime alla violenza alla paura al dolore che ci sono ci sono certo ci sono nessuna non è un discorso di negazione questo assolutamente lo rispettiamo ma vogliamo di nuovo trasmettere un messaggio positivo quindi iniziamo anche ad utilizzare proprio come proponevi tu dei termini differenti a mettere la luce sul potenziale su quel potenziale che forse non è stato messo in risalto non lo so scoperto è stato distrattato sì è stato negletto in qualche modo sì sì assolutamente mi viene da dire che poi appunto molta del lavoro sul trauma che si fa che facciamo noi psicologi consiste proprio in questo nel senso che tante volte il trauma poi struttura una narrazione all'interno della persona e la obbliga a pensarsi solamente nel ruolo della persona traumatizzata e vittimizzata gran parte del parlo per me del mio lavoro con le persone che hanno subito violenza è proprio il fatto di uscire da questa narrazione cioè dal tu è vero sei stato anche una vittima un sopravvissuto verrebbe da dire con un termine molto più utile alla persona anglosassone anglosassone in qualche modo potremmo anche poi trovarne magari di più adatti alla situazione culturale in cui viviamo però tu esci un po' da questa narrazione qua tu non sei solo quella narrazione ci sono altre narrazioni andiamo a costruirle assieme mettiamole la prova qui nel qui e ora io e te e poi una volta che l'abbiamo strutturata io e te le andrai anche a portare fuori e ti renderai forse conto che effettivamente quella violenza che ti è capitata non ti ha definito sei una persona che è stata male che è stata maltrattata che è stata profondamente messa in difficoltà ma hai comunque delle possibilità di uscire da questa questione qui è un evento che fa parte di un percorso e di una storia comunque le situazioni di violenza creano un po' una frattura esatto mi viene in mente un po' inflazionata come immagine il famoso il famoso concetto di vasi che si rompono ma che poi vengono rimessi in piedi con una colla comunque dorata quindi c'è una una rinascita o comunque un ricostruirsi in maniera diversa da prima questo non lo possiamo non lo possiamo negare ma in maniera continua anche cioè rimanendo sempre un po' tra l'altro la ricchezza di quei vasi sta proprio nel modo in cui vengono riempite le ferite non so volevo anche offrirvi un altro un altro spunto di riflessione perché non dobbiamo dimenticarci che noi lavoriamo col trauma ma anche con persone che e qui forse andiamo anche un po' nella statistica la maggior parte delle persone che ne abbiamo accolto hanno una difficoltà intellettiva e allora spesso ci chiediamo anche è nato prima l'uovo o la gallina piuttosto che il trauma ha creato una frattura psichica ok oppure questa persona in seguito appunto quindi questa persona in seguito ad una serie di maltrattamenti ha avuto una difficoltà a sviluppare il proprio potenziale o anche la violenza è subentrata ad una fragilità e quindi io che mi trovo te Giovannina seduta di fronte a me come posso aiutarti come riempio le tue ferite con quell'oro splendente e questa è una riflessione che possiamo fare perché alcune volte dobbiamo anche riconoscere che ci possono essere delle chiavi di lettura differenti e magari quelle ferite mi verrebbe da dire devono essere si integrate in una narrazione ma fin dove la persona può arrivare e ora vi faccio una metafora che probabilmente verrà tagliata ossia spesso dico vado proprio nel concreto ma cosa ti succede se sbaglio a mettere il sale nella pasta non possiamo togliere il sale nella pasta rimane salata allora cosa andiamo a fare andiamo ad aggiungere ciò che c'è di positivo l'acqua per ristabilire un corretto equilibrio forse è questo quello che dobbiamo dirci noi giochiamo stiamo insieme ti aumentiamo la quota positiva della vita ti facciamo scoprire che cosa tu puoi ancora fare quelle ferite con quell'oro rimarranno lì e magari non saranno dorate magari non riusciamo a ristrutturarle non so se sei d'accordo con questo sì 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 fatte le i debiti soppesamenti sì l'idea poi è che poi tra l'altro c'è anche molto un lavoro di rete nel rimettere assieme un pochettino queste ferite un lavoro di rete che però parte sempre anche dal dal mettere come protagonista mettere al centro la persona che ha chiesto aiuto quindi appunto insomma una delle nostre peculiarità dal mio punto di vista è il fatto che noi utilizziamo moltissimo questo lavoro di rete cioè nel senso associazioni servizi territoriali altri professionisti che cercano di tenere insieme questo corcio mentre la persona tira fuori quest'oro che serve come nel kintsugi a mettere assieme il vaso faccio un po' come dire quella quella didascalica ma perché secondo me in questa sede in questo podcast è anche importante dare proprio delle informazioni specifiche fare un po' di psicoeducazione diremmo noi però facciamo un po' di informazione anche perché l'abbiamo un po' accennato prima però quindi strutturiamo solo un po' la teoria ma non sarà nulla di noioso anzi un po' come abbiamo detto prima con Marta sapere in realtà di queste specifiche sulla violenza verso le donne con disabilità aiuta ad aprire gli occhi quindi facciamo anche noi un po' questa parte la violenza verso le donne con disabilità che specifiche ha che caratteristiche ha cioè quali sono proprio le situazioni che si vivono un po' l'abbiamo anche accennato prima relativamente anche magari a situazioni in cui è presente anche una disabilità intellettiva cioè magari facciamo un po' una panoramica ecco in questo senso beh c'è da dire che sicuramente appunto come anche si riscontra poi nella nella popolazione generale noi abbiamo una buona prevalenza di vittime di sesso femmile però ci sono delle particolarità relative al fatto che se nella popolazione generale nella società generale molto spesso la violenza è di genere nel senso che lo squilibrio di potere è orientato nei confronti della parte maschile questo non è poi sempre così vero nel nostro o comunque lo è di meno nella nostra esperienza nel senso che la violenza rivolta nei confronti di donne nella nostra esperienza sia clinica che di lavoro è invece molto più sfumata cioè nel senso ci sono anche molto spesso violenza da caregiver donna sulla persona disabile donna e questo è comunque da tenere presente sicuramente sì esatto perché non è una violenza di genere come spesso diciamo è una violenza che utilizza la disparità di potere per riprendere il concetto quindi prima di tutto non possiamo identificarla con una violenza di genere è collegato a questo fattore è anche importante dire che le percentuali di violenza fisica e sessuale non sono poi le uniche che riscontriamo ma quando parliamo di disabilità è altrettanto violenza il controllo economico l'allontanamento degli ausili pensiamo a una persona che ha una disabilità motoria che viene lasciata allettata e gli viene quindi impedita la possibilità di muoversi in modo autonomo come una persona allontanata dai propri apparecchi acustici se passiamo con una persona sorda dal proprio bastone o dal cane la violenza sugli animali su magari gli animali accompagnatori abbiamo sentito il cane guida che è fondamentale anche non so se lo sapete ma sapete che non si sta ad accarezzare a toccare giocare con un cane noi lo sappiamo lo so perché sul lavoro è che un cane che sta lavorando e quindi certo e quindi anche questo ci sono altri tipi di violenza perché nell'immaginario collettivo violenza sulle donne pensiamo al sangue abuso sessuale per cose ma anche le pubblicità in effetti hanno come dicevo un po' prima hanno questa narrazione questo immaginario un po' qua questo rosso che ritorna il sangue sì 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 e invece è un pochino più complesso ecco forse quando la violenza è su donne con disabilità prima c'era il fatto che il fior di lotto si rivolge anche agli uomini con disabilità che vivono situazioni di violenza vogliamo dire insomma se c'è un motivo specifico è una scelta insomma dell'associazione del progetto sicuramente ma mi verrebbe da insomma siccome fino adesso comunque ho parlato anche di questioni relative alle donne nonostante io sia un uomo cisgender e quindi sia un pochino meno forse titolato a parlare di violenza sulle donne questa è una cosa su cui posso magari più spendermi effettivamente a me capita è capitato e probabilmente continuerà a capitare di avere a che fare con pazienti e uomini che sono stati vittime di violenza e anche questo è sicuramente una quota importante del nostro lavoro non è nata subito perché appunto inizialmente una delle più delle nostre iniziali fonti di ingresso di nuovi pazienti era l'ambulatorio ginecologico che ricordiamo è importantissimo in cui Laura le parti del Fior di Loto esatto l'altra anima del Fior di Loto esatto dici Ale e appunto sono molti pazienti uomini che sono sottoposti a violenze un po' ad ampio spetto sia quelli di cui parlavamo adesso con Laura sia delle proprie violenze anche sessuali effettivamente mi viene in mente un mio paziente che ha visto delle cose abbastanza pesanti sotto questo punto di vista da parte dei genitori e anche quindi stiamo parlando di situazioni molto paragonabili a quelle di violenza sulle donne effettivamente un'altra casistica molto minore sì magari numeri numeri diversi dal punto di vista statistico però ok ok quindi abbiamo anche prima diciamo che il messaggio un po' che vogliamo far passare in questa seconda parte è che esiste la possibilità di una diversa narrazione della violenza sulle donne quindi conseguenza anche una diversa narrazione della violenza sulle donne con disabilità e vorrei con voi fare proprio una sorta di gioco in realtà coinvolgendo anche le persone che ci ascolteranno e che o ci vedranno in realtà vabbè si può fare tutte e due e quindi cercare insieme a voi poi appunto è un invito che facciamo che facciamo un po' tutti assolutamente a cercare dei sinonimi perché cambiando in realtà il linguaggio possiamo cambiare anche le concezioni gli atteggiamenti i comportamenti che abbiamo nei confronti di un certo fenomeno in questo caso della violenza quindi invece di dire parla la psicoterapeuta cognitivista che c'è in te in questo momento e beh è un'altra parte siamo i due contro uno quindi facciamo così invece che usare l'espressione subire una violenza subire la violenza che parole possiamo usare? l'abbiamo già un po' accennata prima perché poi noi ci spoileriamo da soli però pensavamo di veicolare l'immagine di un incontro un passare attraverso è una cosa che capita forse la metafora dell'incidente che l'altra sera perché ci siamo preparati per questo incontro l'altra sera abbiamo un po' esatto ne parlavamo dicevamo nei termini che appunto una violenza fatta mutatis mutandis è un po' come un incidente in qualche modo nel senso quando a nessuna persona che sia stata vittima di un incidente stradale e abbia recuperato verrebbe mai in mente di essere considerata vittima di incidente stradale per tutta la sua vita ha avuto un incidente magari anche grave magari si è ripresa magari non del tutto e qui entriamo anche sulla possibilità poi di entrare nella disabilità e non necessariamente nascerci ma comunque non divaghiamo a nessuno verrebbe in mente di considerarla insomma senza termine una persona vittima di incidenti una persona che in un momento puntuale della sua vita ha avuto una brutta esperienza che magari ha anche lasciato degli strascichi psicologici ma che non la definisce in quanto tale questa era un po' la metafora che avevamo sì forse perché adesso noi effettivamente è vero che noi psicologi chiacchieriamo un sacco come ci dicono dalla regia che ci invitano a stringere quindi grazie ma effettivamente quello che davvero ci teniamo un po' a esprimere è questa idea e ripete davvero non è uno sminuire l'intensità e il dolore dell'esperienza ma aiutare le persone che si approcciano e che lavorano e che incontrano donne e uomini che hanno appunto incontrato questa esperienza aiutami adesso volevo dire subito proprio a è un esercizio è un esercizio bisogna mettersi d'impegno alle volte per riuscire e vorremmo davvero farlo prima perché come avete appena visto non è così facile e ci entriamo dentro anche noi quotidianamente ma poi proprio perché aiuta la persona a ridare valore alla propria identità a prescindere lo dicevi per dare risalto a un fenomeno sommerso perché per questo che poi abbiamo avuto tantissima pubblicità tantissimo i media ringraziamo di tutta l'attenzione ma vorremmo comunque proporre un'idea diversa della violenza ok va bene parlarne ma parliamo in un modo che comunque dia alla persona la speranza un modo che sia utile non solamente che non porti solo attenzione ma porti anche un'apertura una possibilità al cambiamento una prospettiva una prospettiva esatto ok siamo verso la fine facciamo un po' come dire una panoramica dei servizi che a Torino effettivamente possono essere contattati in situazioni di violenza chiaramente vabbè c'è il progetto Fior di Loto e magari insomma sui social o sul canale dove ci state guardando probabilmente magari verranno messi anche i contatti specifici in ogni caso ci trovate banalmente anche sui social come associazione verba da lì ci sono i contatti quali altri servizi poi possono essere raggiunti qua a Torino o a livello nazionale c'è sicuramente il numero nazionale 15-22 da chiamare in casi di violenza e di emergenza e poi noi collaboriamo col CAV che è il centro antiviolenza del comune di Torino quindi della città di Torino importantissima collaborazione assolutamente io vi ringrazio è stata una chiacchierata molto importante ringrazio poi di nuovo anche Marta e speriamo di aver dato un po' una panoramica e anche delle riflessioni intorno alla giornata del 25 novembre io ringrazio anche insomma i nostri operatori di regia Federico Stella e Mattia Strocchio ringrazio chiaramente l'informa disabile con cui questo podcast viene co-costruito e ringrazio anche il gruppo LIS che si occupa della insomma della traduzione lingua lingua dei segni grazie a te Alessia grazie 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 anche a chi ci guarda e a chi ha reso possibile la registrazione di questa puntata grazie e alla prossima puntata di A Tu Per Te grazie a te grazie a te